Mi hanno fatto questo. Ti ricordi? C'erano gli stessi disegni. Sui muri, sui mobili e sulla porta della casa. Poi sei arrivato tu. È stato un miracolo. E non sapevo più che cosa vuol dire essere amata. Tu me l'hai insegnato. E sono stata tanto felice, tanto contenta. E allora? Nel mondo c'è tanta gente triste, sfortunata, sola, come ero io. Ho rosto che la mia vita serviva Dio a aiutare questa gente. Per quello poco so fare. Aiutarli a sordere un po' di più. come abbiamo fatto noi tante volte insieme. E io? Ma tu sei sempre nel mio cuore. Ora non hai più bisogno di me. Io lo so che ce lo puoi fare. Sei forte. E poi è tuo papà. Tuo papà hai cambiato. io lo so. Ma io voglio te e lui. Vi voglio tutte e due. È difficile anche per me. Tu resti con me. Te lo ordino. Io non sono più una cosa. Capirlo è stato molto difficile. più difficile che l'obbedire. Servire. E stare sfrustata. Sono una persona cattiva. Cattiva! Papà ha detto che ti costringe a venire con noi. E lo farà. Tu vieni con noi. Anche se decidi. No. Vieni con noi. Via! Vai via! Via! Sei cattiva! Cattiva! Via! 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 Il tribunale italiano giudicherà Bachita per decidere della sua libertà. Ma la Chiesa ha comunque il dovere di dare una risposta alla sua domanda. Bachita ha chiesto di prendere i voti e di entrare a far parte del vostro ordine. Ciascuna ha avuto modo e tempo per riflettere però prima di prendere una decisione voglio ascoltarvi tutte. Dite una sola parola accettata o respinta. Prego. Suor Violante Respinta Suor Maria Accettata Suor Roberta Respinta Suor Gersomina Respinta Suor Angela Accettata Suor Irene Respinta Suor Attilia Respinta Suor Agata Accettata Stanno votando Stanno votando Chi vuole la bachita e chi no E chi dice? Tanti dicono di sì e tanti dicono di no Stanno votando Qualcuno di raggettata e qualcuno respinta che succede? No, 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 no arrivi a bachita Aspetti se bachita parte io scappo Credo che non parte Suor Anna Respinta Suor Giuseppina Accettata Suor Maura Respinta Suor Santina Respinta Suor Paolina è dura piccolo respinti piccolo respinti dove vai? Attila 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 Mamma mia, mamma mia! Mamma mia, mamma mia! Mamma mia! Rocco! Accentato, accentato, accentato! Che fai! Non sapevo che farli, Rocco. Grazie. È una storia incredibile. Io non capisco perché mia moglie non mi ha mai parlato di lei e di Pachita. Perché? Chi è sua moglie? Aurora. Aurora Marin. Sono di fronte al marito di Aurora. Sì, sono io. Pachita mi ha lasciato qualcosa per sua moglie. Davvero? Io sua moglie la capisco. Certe cose sono difficili da dire. Mi credo. Lo so. Accettato, 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 accettato!